In questa puntata di Deal With It, stai al gioco? Con Francesco Facchinetti metteremo a dura prova l'amicizia tra due eleganti signori. Avete visto un cellulare? Con l'aiuto di Frank Matano, porteremo un po' di magia al tavolo di una coppia di giovani fidanzati. Sarai un mago vero. Non lanciare! E insieme ai Pampers saremo complici di una confessione scottante. E' il tuo giovanissimo amante. Mi sono asciutto un ragazzo. Quasi ho la prima. Io ti amo.